buongiorno 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 e allora stamattina sono venuto a piedi a farmi un caffè e allora mannaggia cuore mio e si dice che praticamente e questi capelli non vedo l'ora di andarmene a tagliare praticamente in quel reparto dove si dorme sempre essi così hanno dentro perché comunque parecchi quasi tutti se non tutti li fanno dormire perché così non hanno problemi stanno tranquilli va bene cuore mio e se devi andare così devi andare così che dobbiamo fare questa febbre 38 e 3 che è scesa un'altra vignetta e si poi ovviamente tenendo l'organismo a riposo è normale che tutto funziona in maniera migliore insomma è così il cuore mio è così ma l'unica cosa è che dobbiamo assolutamente fare questo intervento così iniziamo a fare questa questa dialisi in modo tale che si abbassa finalmente la febbre così iniziamo a riprendere un po' un po' le forze perché dobbiamo mangiare dobbiamo togliere quest'altro tubo dobbiamo togliere l'ossigeno eh sì cuore dobbiamo iniziare se no qua le portiamo per le lunghe eh sì lo so il tempo che ci vuole ci vuole tempo no ma io sono contento l'importante è che facciamo questo questo intervento e sono contento che poi ti mettono nella stanza e poi piano piano eh iniziamo le cure però secondo me prima dobbiamo secondo me c'è prima una fase di recupero e sicuramente non lo so quanto tempo andrà via però sicuramente dobbiamo recuperare un po' quale perché siamo troppo sotto peso eh e e poi inizieremo sicuramente le terapie del calcio secondo me la prima cosa che faremo è quella del trapianto termidonico però ovviamente hai bisogno di recuperare un po' di forza eh eh niente oggi abbiamo saputo notizia riguardo riguardo il don niente ha cambiato idea ha detto che resta dove sta meglio così così sta più sereno ok non mi dilungo più di tanto sennò poi ti addormenti a leggere a vedere il video va bene qua oggi pomeriggio anzi stasera veniamo da te perché dopo che accompagno Giuseppe mi sa che alle 8 lo accompagno e poi da lì prendo l'antra e veniamo da te va bene ci sentiamo dopo mi raccomando capito cuore me me lo voglio a me ma non è che la mi serve ciao cuore un bacio un cuore e un abbraccio forte ci sentiamo dopo ciao cuore mio ciao